Nel momento in cui immergiamo la pagaia nell'acqua, come se volessimo spazzare via un educo interiore, ma nello stesso tempo ci soddisfa stare insieme perché ci dà anche un supporto psicologico, in quanto noi condividiamo lo stesso problema, lo stesso problematico tutto insieme e quindi ci dà tanta forza di voler a tutti i costi superare quello che è la nostra malattia. Una battaglia contro un nemico insidioso, quello che combattono le dragonette. Molti gli alleati che hanno trovato lungo il loro cammino di guarigione, Associazione Angela Serra, Icano Tirirno e la Serenitana Femminile, che da ieri ha stretto un accordo con le dragonette. C'è un insegnamento di stare tutti insieme con lo stesso movimento e di fare famiglia. C'è un insegnamento di stare insieme con lo stesso movimento e di fare famiglia.